Musica Ennesimo furto, commerciante getta la spugna e accaduto la scorsa notte a Gela, preso di mira il supermercato Crai della famiglia di Pietro a Macchitella. L'esercente, già vittima di altri episodi delinquenziali, pensa di chiudere e di abbandonare la città. E' con lui anche il titolare di un ristorante sul lungomare Federico II di Svevia. Stadio presti chiuso, indaga la polizia, requisiti nella sede di Viale Mediterraneo dell'assessorato allo sport e turismo del comune di Gela, atti, delibere, incarichi e documenti vari che riguardano la questione della struttura di Contrada Giardinelli. Non è escluso che la vicenda possa allargarsi sempre più e coinvolgere altri impianti sportivi, come per esempio il Palacossiga, anch'esso recentemente dichiarato inagibile. Io pretendo la mia felicità è il titolo del libro dell'insegnante palermitana Rosaria Cascio, presentato all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga. L'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni della giornata della memoria e ricordo delle vittime della mafia. Noi non molliamo, siamo il Gela Calcio. Lo staff tecnico Biancazzurro ieri ha voluto fare sentire forte la propria voce in merito alle vicende societarie degli ultimi giorni con le dimissioni della dirigenza. Chiedono certezze. La squadra si allena in vista della gara di domenica prossima in casa della capolista Nocerina. Non hanno più voglia di parlare pubblicamente e di esternare il loro malcontento. Sono trincerati dietro al loro silenzio anche perché, a microfoni spenti, hanno sussurrato che serve a poco, anzi serve a nulla. Perché nonostante le denunce in tv, nonostante aver manifestato in più di un'occasione che ci vuole un cambiamento radicale, soprattutto nelle coscienze in ognuno dei Gelesi, poco è cambiato, anzi tutto è peggiorato. Perché non è tanto il valore economico del danno subito, ma l'azione delinquenziale in quanto tale. Perché sta diventando insostenibile non solo per le attività che gestiscono, ma anche per i dipendenti che ci lavorano, i quali si sentono meno sicuri. Stiamo parlando della famiglia di Pietro, titolare a Gela di una catena di supermercati. Negli ultimi anni, padre e figli sono stati vittime di rapine e furti con una cadenza allarmante. La notte scorsa, nel supermercato che si effaccia in Viale Corte Maggiore a Macchitella, ladri perfezionisti hanno portato via una bilancia commerciale di ultima generazione, del valore di 7.000 euro. Hanno rotto una porta secondaria, hanno messo a suo quadro il locale e su un mezzo hanno caricato lo strumento di pesatura. Altro giro, altro furto, è divenuta un'allarmante consuetudine. Ma adesso basta, la famiglia di Pietro è pronta a gettare la spugna. E quando un commerciante decide di chiudere ed abbandonare, è una sconfitta per l'intero movimento. Per tanti, troppi padri di famiglia, inconsciamente subentra la paura, la solitudine. Così come è accaduto anche ad un altro commerciante gelese, titolare di un ristorante sul lungomare Federico II di Svevia. In un post ha scritto che voleva calare l'ancora in questa città. Voleva fare il buon marinaio e mettere tenda sulla terra ferma. Avere una propria attività e scommettere con se stesso, con un solo obiettivo, vivere in pace con la propria famiglia. Invece no, una mano ignota ha rubato diversi televisori sotto l'occhio vigile delle telecamere a circuito chiuso, violando l'intimo dell'esercente, calpestando la sua attività, la personalità di un uomo e costringendolo a mettere in vendita il negozio, perché stanco di subire i soprusi di chi delinque. E meglio, ha scritto sui social, acquistare dei biglietti aereo per volare, perché la chiusa finale non è facile buttare l'ancora in una terra dove tutto è possibile ed ammissibile. Inizia Puzziale di Bruciato la questione legata allo stadio Vincenzo Presti di Gela, dichiarato inoggibile, una vicenda che si ingarbuglia sempre più e che adesso è finita nell'occhio del ciclone. A volerci vedere chiaro su come lo stadio sia stato gestito e sulle autorizzazioni, adesso è la polizia del locale commissariato guidata dal dirigente Francesco Marino. Agenti nella sede di Viale Mediterraneo dell'Assessorato dello Sport e Turismo del Comune di Gela hanno sequestrato atti, delibere, incariche e documenti vari che riguardano la questione stadio. Non è escluso che la vicenda possa allargarsi sempre più e coinvolgere altri impianti sportivi di Gela, come per esempio il Palacossiga, anch'esso recentemente dichiarato inagibile. Da quando il Vincenzo Presti ha chiuso i battenti, il Gela Calcio è costretto a disputare le partite di campionato nella vicina Licata, ma ad usufruire del campo di gioco di Contrada Giardinelli anche altre società sportive gelesi. Così come anche il Palacossiga ha spesso ospitato delle manifestazioni sportive con gli organizzatori che ora si ritrovano ad emigrare verso altri liti perché la struttura donata nel 1991 dalla loro Presidente della Repubblica Francesco Cossiga è off-limits. In che maniera vengono gestite queste strutture? La polizia vuole indagare e comprendere se ci sono eventuali responsabilità che potrebbero tirare in ballo amministratori vecchi e nuovi, dirigenti, assessori e tecnici. In merito allo Stadio Presti, giorni addietro, la Commissione Pubblici Spettacoli ha negato l'utilizzo della tribuna in condizioni precarie. Sono stati avviati dei lavori di ripristino e si attende una comunicazione in tal senso proprio sull'agibilità. Comunicazione che non è arrivata in tempo la scorsa settimana e che ha costretto il Gela a giocare il derby con la San Cataldese al Dino Liotta. Otto giorni fa invece è arrivata un'altra tegola con la chiusura del Palacossiga, decisione assunta dall'amministrazione comunale perché a quasi dieci anni dall'inaugurazione non è stato mai effettuato il collaudo del sistema anti-incendio. Se ne accorta la Commissione Provinciale ai pubblici spettacoli nel corso di una visita ispettiva al termine della quale è stata negata l'agibilità della struttura. Al sindaco domenico messinese non è rimasto altro che comunicare la chiusura del palazzetto con l'impegno dell'avvio immediato dei lavori di adeguamento. Una sana relazione tra insegnanti e alunni come arma migliore per formare cittadini onesti e adulti felici. E questo è il messaggio lanciato da Rosaria Cascio, docente di lettere al Liceo delle Scienze Umane Regina Margherita di Palermo, che all'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, diretto da Viviana Aldisio, ha presentato il suo libro dal titolo Io pretendo la mia felicità. Applicando il metodo dell'ascolto sviluppato da Dompino Puglisi, del quale è stata allieva, Rosaria Cascio ha iniziato un percorso con i suoi studenti che ha portato alla stesura di testi dove i ragazzi si raccontano mettendo a nudo sogni, paure e aspirazioni. Dal libro è stato inoltre tratto uno spettacolo teatrale che è stato rappresentato in diversi teatri, in Sicilia e in Emilia Romagna. Questo è l'obiettivo di uno docenti, non c'è niente da fare, limitarsi a insegnare contenuti significa formare delle teste vuote perché non sono dei contenitori. Io ho imparato da questa esperienza che i contenuti delle mie discipline si attaccano alle loro vene, scorrono nel loro sangue soltanto se sono mescolati con le emozioni. E questo è quello che è successo a me quando, grazie all'esperienza che ho maturato con padre Pino Puglisi, quando avevo 14 anni fino all'età di 28 anni ho cominciato proprio a capire che è soltanto nella relazione emotiva che si costruiscono anche i contenuti della propria vita. Qual è il ricordo più bello che ha di Don Pino Puglisi? Quella domanda di cui ho parlato prima, il sima verso dove, che è la domanda che ci facevamo ogni giorno insieme a lui, quella stessa domanda che non mi ha portato a rispondere, sì, visto che era fatta da un prete, voglio diventare una suora oppure sì, per un maschio voglio diventare un prete, sì, voglio diventare un uomo, voglio diventare una donna perché Puglisi mi ha insegnato a capire chi sono, quali sono le mie attitudini e dove al meglio posso andare per poterle condividere con gli altri. L'iniziativa rientra nell'ambito della giornata della memoria e ricordo delle vittime e delle mafie. Oggi è la giornata nazionale della memoria per le vittime contro tutte le mafie e ospitiamo a scuola Rosaria Cascio con questa sua innovativa modalità di trasmettere messaggi di rispetto, di legalità ma indirettamente serve anche molto ai docenti questa esperienza di trasmettere delle pratiche didattiche e pedagogiche che siano alla base, che sicuramente riconducono a quello che era il pensiero e al metodo di Don Pino Puglisi ma dovrebbero essere alla base del modo di operare di ciascun educatore e formatore. L'iniziativa è stata promossa dalla libreria Mondadori di Gela. Nel corso della presentazione alcuni brani del libro sono stati interpretati dagli studenti coautori dei testi. Saranno tra i protagonisti il prossimo 24 marzo dello storico programma di Rai3 per un pugno di libri giunto alla sedicesima edizione condotto da Geppi Gucciardo e dal professore Dorflex in onda alle ore 18. Sono gli alunni della quinta sezione I dell'indirizzo anglo-cinese del liceo Alessandro Volta che sfideranno un'altra classe di un istituto superiore rispondendo a domande letterarie italiane straniere di tutti i tempi. Oltre ai 16 alunni della quinta sezione I parteciperanno alla trasmissione altri 6 studenti provenienti dalle classi quinte del liceo tutti appassionati per la letteratura. Ad accompagnare gli alunni le professoresse Maria Giulia Palermo e Marisa Amenta. La domanda di partecipare al programma per un pugno di libri è stata chiesta insistentemente dai nostri alunni precisamente dalla quinta I dell'anglo-cinese che è sempre stata una classe molto eclettica, ha coltivato molte passioni e devo dire che tra queste passioni la lettura ha sempre costituito una parte molto importante per cui anche in passato ce l'avevamo scambiata delle impressioni su libri condivisi e sono stati proprio loro a chiedere di partecipare e appena ci hanno chiamato dopo circa un anno dalla domanda si è messo in moto tutto un meccanismo organizzativo molto positivo al di là dell'esito della gara che ovviamente non potremo sapere fino al giorno 20 quando registreremo. Oltre 250 le opere letterarie approfondite dagli studenti che si stanno preparando con grande entusiasmo all'evento televisivo. Il nostro lavoro è iniziato in realtà subito quando abbiamo presentato la domanda perché presi dalla fogga dell'entusiasmo abbiamo guardato diverse puntate di diverse edizioni estrapolando le informazioni che credevamo sarebbero state utili e che poi quando ci hanno avvisati del successo della nostra domanda ci sono appunto tornate utili. Abbiamo approfondito attraverso schede minuziose tantissime tantissime opere che ci ha fornito sia la redazione che noi abbiamo lista che noi abbiamo ampliato e ci siamo dedicati con appunto minuzze di particolari alla lettura dello straniero di Camus e ci siamo organizzati, divisi i lavori per i vari giochi che dovremmo affrontare. Siamo molto contenti del lavoro che abbiamo fatto, siamo orgogliosi, è un lavoro che appunto affonda le radici già un anno fa e siamo piuttosto fiduciosi. Qualunque sia l'esito siamo molto orgogliosi del gruppo e del lavoro che abbiamo svolto. Sicuramente c'è tantissima emozione in questi giorni in classe, ci sfideremo con il Liceo di Roma, il Virgilio, ci stiamo preparando veramente tantissimo, è un momento molto stimolante per noi. Loro non molleranno fino alla conclusione del campionato perché rappresentano una maglia importante, rappresentano il gioco da calcio in ogni dove. Lo staff tecnico Biancazzurro ieri ha voluto fare sentire forte la propria voce in merito alle vicende societarie degli ultimi giorni con le dimissioni della dirigenza. Noi non molliamo, hanno detto, e prepareremo la partita di domenica in casa della capolista nocerina con l'impegno che ci ha sempre contraddistinti in questo infausto campionato di Saledi. Vogliamo ulteriormente accendere i riflettori affinché auspichiamo che nel più breve tempo possibile ci si dia una risposta su come si intende proseguire il campionato. Noi siamo qui, lo saremo sempre fino alla fine, cercheremo sempre di onorare la proprietà, la città, la maglia gloriosa che indossiamo. Però è chiaro che non si può protrarre all'infinito questa situazione di impasse perché non abbiamo al momento dei riferimenti. Noi siamo qui perché siamo giocatori del gelacalcio, siamo ospiti di una città importante, vogliamo con tutte le nostre forze continuare a farlo fino alla fine, per cui anche, ripeto, attraverso i media cerchiamo ulteriormente di sensibilizzare chi di dovere a darci delle risposte per poter proseguire nient'altro che il nostro lavoro. Il capitano dei Biancazzurri, Alessandro Bonaffini. Vogliamo delle certezze e delle chiarezze. Un allenamento o due allenamenti non possono sicuramente incidere la partita di domenica. Noi sicuramente in questi giorni cerchiamo di avere delle risposte. Speriamo che arriva qualcuno che ci possa dire la volontà o dei mentolo o se ci sono altre situazioni, questo non lo sappiamo. Noi siamo disposti a partire e andare a Nocera, però capiamo che la trasferta in Nocera è costosa, quindi ci sono anche dei problemi logistici. Intanto ieri sera, attraverso un comunicato, la dirigenza del Gela ha sottolineato che quello che viene identificato come un abbandono della squadra da parte dello staff dirigenziale altro non è che un ulteriore atto d'amore del gruppo Mendola per i gloriosi colori del Gela Calcio. Dopo i fattacci dello stadio chiuso inesorabilmente per incuria da parte degli amministratori comunali, i dirigenti tutti del Gela si sono impegnati notte e giorno per bloccare tutti i reclami da parte degli sponsor e per cercare nuovi acquirenti. Ad oggi, si legge nella nota, abbiamo trattative aperte con due cordate, una romana ed un'altra del Veneto. Poi la dirigenza Mendola si rivolge all'ex presidente Angelo Tuccio, invitandola a fare le capitale e se li tiene di averle in tasca, l'altra offerta economica è di recuperare le somme di quella che gli stessi fratelli Mendola definiscono sponsorizzazione fantasma. Ieri sera sono state pagate le somme dei contenziosi con i giocatori della passata stagione che avevano promosso una vertenza scongiurata, l'ipotesi di ben sei punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2018-2019. L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Gela, organizza per domani alle 18.30 presso la parrocchia Santa Lucia una celebrazione eucaristica commemorativa, officianta da donna Luigi Petralia, assistente spirituale, in memoria dei defunti e decaduti appartenenti al corpo di pubblica sicurezza e alla Polizia di Stato. saranno presenti i familiari dei defunti e una larga rappresentanza delle forze dell'ordine. Serata conclusiva oggi alle 19 per la rassegna Versi di Luce che si svolge nei locali dell'ex chiesa San Giovanni a Gela. Tante le tematiche affrontate dai corti, dalla guerra all'intelligenza umana, dalla morte alla politica. A presentare l'iniziativa è la giornalista Daniela Pellegrino. Versi di Luce è promossa dal Circolo Stella Maris, dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Gela e da Renovazio. La pubblica assistenza Trinacria Emergency di Gela, coordinata da Orazio Coccomini, cerca volontari tra pensionati, disoccupati, studenti e lavoratori e chi ha tempo libero da dedicare al bene comune. La pubblica assistenza è impegnata non solo in protezione civile, ma in tante iniziative di carattere sociale e propone di fare volontariato anche nel campo dell'assistenza sociosanitaria e nel trasporto in ambulanza. Per informazioni contattare il numero 0933 91 44 19 oppure visitare la pagina Facebook Trinacria Emergency Gela. Don Cicciu Uprefeco si tratta della commedia in tre atti di Pino Giambrone prevista per oggi e domani alle 21 al Cineteatro Antidodo di Macchitella a Gela. Sul palco la compagnia teatrale Luigi Capuana. Per informazioni contattare lo 0933 82 2707 338 7143 293. Sabato 24 marzo alle 17.15 e alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela l'Associazione Teatro ABC porterà in scena il musical La Bella e la Bestia per la Regia di Antonello Capodici. Per informazioni contattare lo 0933 91 18 92 345 58 80 580. Incetta di medaglie per gli atleti della Gela Sport che lo scorso weekend hanno partecipato ad Ancora ai campionati italiani indoor e alla Coppa Italia Lanci. La squadra gelese presieduta da Rocco Addario e allenata da Leo Zappulla ha conquistato quattro medaglie d'oro, otto d'argento, tre di bronzo ed un quarto posto. Venerdì 23 marzo al parco di Montelungo a Gela si terrà la non edizione del cross di primavera. L'iniziativa è della associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Veletti appuntamento per le nove. Testimonie la saranno Monica Contrafatto e Kimber di Scudera.